CGL e Will oggi i protagonisti di una mobilitazione all'Aquila dinanzi all'emiciclo. La CISL, che pur all'inizio aveva aderito, si è poi dissociata dalla manifestazione, non ritenendo giusto lo sciopero indetto per il 16 dicembre. Centralità del lavoro nelle scelte del Paese nel futuro dell'Abruzzo è stato il titolo della manifestazione regionale che si è inserita nell'ambito della mobilitazione nazionale che i sindacati hanno deciso di portare avanti su pensioni, fisco, lavoro, sviluppo e sociale per migliorare la legge di bilancio in discussione in Parlamento. Secondo Roberto Ghiselli, segretario nazionale della CGL, il governo finora non ha dato delle adeguate risposte. Abbiamo fatto delle proposte ben precise, le risposte ci sono state in misura del tutto insoddisfacenti, quindi chiediamo al governo misure vere per ridurre le tasse sulle buste a paghe dei lavoratori e sulle pensioni, per consentire alle persone di poter andare in pensione a condizioni diverse da quota 100 e soprattutto per creare lavoro in questo Paese, lavoro di qualità contro il precariato e per dare una prospettiva ai giovani di crescita e di futuro. Obiettivo della manifestazione è accendere nuovamente i riflettori sulle problematiche che continuano a interessare l'Abruzzo, dall'occupazione alle crisi industriali, passando per il precariato e risvolti sanitari, economici e sociali legati alla pandemia. Chi si è tirato fuori dalla manifestazione odierna è la CISL Abruzzo Molise, che non è stata d'accordo nel proclamare lo sciopero generale per il 16 dicembre. La CISL considera infatti sbagliato ricorrere allo sciopero generale e radicalizzare il conflitto in un momento tanto delicato per il Paese e l'Abruzzo. Per Michele Lombardo però, segretario regionale UIL, i tre sindacati sono uniti nell'avvertenza Abruzzo. CGL e UIL rispetto a una piattaforma presentata qualche mese fa al Governo nazionale hanno mantenuto la posizione. Quella piattaforma noi vogliamo che il Governo nazionale la tenga ben presente e su questo purtroppo non si è trovata l'intesa con Draghi, col Governo e andiamo allo sciopero generale. Mi sembra un percorso sindacale del tutto lineare e normale. Ovviamente la CISL ha preso un'altra strada e questo credo che comunque, una cosa posso dire, ieri sera ci siamo sentiti come segretari generali CGL CISL e UIL Abruzzo e insieme a Malandra e a Carmine Ranieri abbiamo condiviso che l'avvertenza Abruzzo che lanceremo da questa piazza questa mattina sarà un'avvertenza unitaria insieme anche alla CISL Abruzzo.